Allora, perché oggi possiamo parlare di tutti i fasi del sistema bancario? Perché si può parlare di questi termini senza avere paura? Perché l'ingordigia di questo sistema a un certo punto si è riguardo al mercato con dei binanci falsi. E' questo, caro Scarametti, non è che investiva nella banca, azione, obbligazione e osservazione. Forse i grandi gruppi, forse le istituzioni pubbliche, ma non i piccoli risparmiatori. 40 mila risparmiatori, 1 miliardo e 600 milioni di euro, contatti da mille euro. Allora, volutamente, per raccogliere dei soldi per l'operazione da trovera, si è rivolti ai piccoli risparmiatori. E questo è un errore che non potrà mai essere perdonato al Partito Democratico, che ha voluto questa operazione. Questo è il tema vero di discussione. Come non si riterrano, diciamo, gli risparmiatori di operazioni subordinate? C'è l'ingezza oggettivo, c'è stato, c'è, esiste, anche per chi lavora in banca, c'è l'ordine, magari legge tutti i prospetti, ma tutti si leggono, neanche sanno interpretare, sono un lavoro in banca, sono anche le persone semplici che hanno investito in obbligazioni subordinate. Qui c'è il vero tema di come, in realtà, invece, il sistema di operazione professionale, perché ogni cittadino, praticamente, prima di aver acquistato queste obbligazioni, ha firmato dei soldi in cui ha attestato che ha un'alta protezione al rischio, altrimenti quelle obbligazioni non le avevano mai più che comprare. Quello è il tema vero con il quale... E' tutto fatto! 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 Votate in mano, vi lasco alto! Votate in mano, vi lasco alto!